Dopo il grande successo a Roma, Buenos Aires, Mantova, Catania e Matera, la mostra a luce e l'immaginario italiano arriva a Napoli, ospitata al convento di San Domenico Maggiore dal 9 novembre all'11 marzo 2018. L'esposizione presentata questa mattina nel piccolo refettorio del convento con l'assessore alla cultura del comune Nino Daniele, il presidente dell'Istituto Luce Cinecittà Roberto Ciccutto ed il curatore artistico Roland Seiko racconta la storia dell'istituto dalla fondazione nel 1924 ad oggi. L'idea è nata nel novantesimo anniversario della fondazione dell'istituto Luce quando nel 2014 al Vittoriano di Roma abbiamo fatto la mostra l'immaginario italiano. L'idea su cui si basa è raccontare la storia d'Italia ma anche gli italiani e la loro trasformazione. Noi cerchiamo in ogni modo di creare la più larga diffusione di materiale luce e non relegarlo al solo periodo del fascismo. Per fortuna chi è venuto anche prima di me non ha buttato il bambino con l'acqua sporca, ha continuato ad acquisire fondi per cui noi riusciamo a raccontare cento anni di storia italiana. Ma non solo la storia con la S maiuscola, anche quella appunto del sviluppo industriale, della cultura e soprattutto della trasformazione degli italiani a seconda della trasformazione del paese. Nato con l'intento di raccontare l'attualità del paese attraverso l'allora innovativo linguaggio delle immagini in movimento, l'istituto luce venne presto sostenuto e controllato da Mussolini che ne comprese e sfruttò le enormi potenzialità. Quell'intuizione è diventata oggi la più antica istituzione di cinema pubblico al mondo, con un archivio di decine di migliaia di filmati e tre milioni di fotografie. Qui abbiamo una riflessione critica da poter svolgere partendo dalla nostra storia nazionale e appunto come dal controllo dell'immaginario si possa passare invece alla dimensione critica e libera. Ed è un grande tema di discussione, ma questo lo possiamo fare appunto immergendoci in una grande emozione e anche vedendo appunto immagini di Napoli che faranno credo molto pensare, molto emozionare, molto riflettere criticamente e molto discutere. Il percorso espositivo è un racconto dell'Italia del Novecento attraverso un flusso continuo di immagini. Grandi pannelli sono organizzati secondo un ordine tematico cronologico su cui sono proiettate speciali video installazioni, montaggi realizzati ad hoc di centinaia di filmati dell'archivio. A queste si aggiungono oltre 500 fotografie che fermano dettagli e momenti significativi della storia di quegli anni. Un'interessante sezione finale della mostra è dedicata a Napoli con una video installazione di foto e immagini che raccontano l'evoluzione della città dagli anni venti ai tempi nostri. Dalla visita storica di Hitler in Italia nel 1939, poi ci sono la storia dei vicoli e della vita e Totò. Totò abbiamo già partecipato alla bellissima mostra che è stata fatta nei mesi precedenti e qui viene rivisitato ancora come una grande guida, un grande virgilio per l'umanità di questa città. Le parti su Napoli sono scelte direttamente dal curatore scientifico della mostra, che è Roland Seiko. Il materiale del luce su Napoli è straordinariamente tanto e di grandissima qualità. Riesce a leggere la tradizione ma riesce anche a leggere la realtà di Napoli e devo dire che nell'installazione che il visitatore troverà in mostra il filmato è di grande qualità. Riesce a leggere Grazie a tutti